Premio alla carriera nella nona edizione del premio Medicina Italia a Pescara nella sala Domenico Tinozzi per Antonio Raffaele Cotroneo che ha un passato anche in Abruzzo nel settore della radiologia interventistica. Grazie per l'onoreficenza ma il mio passato in Abruzzo non è solo da medico perché mio padre ufficiale dei Carabinieri ha vissuto per dieci anni a Chiedi quindi il primo passaggio l'ho fatto dalla fine degli anni 50 al 60. Poi sono venuto qui da vecchio elefante dell'università per la parte medica che veramente mi ha molto gratificato sia per l'ambiente che fortunatamente già conoscevo ma anche per il livello sia clinico ma anche scientifico dell'università Chiedi Pescara per quanto riguarda la medicina. Per me è stata una sorpresa perché un passaggio iniziale di 20 anni alla Cattolica e poi a Novara non mi avevano fatto conoscere veramente che cosa significasse l'attività scientifica come si faceva qui. Quindi sono molto grato alla struttura spero di aver dato anche il mio contributo come contraccambio. Come è cambiata la radiologia interventistica dai suoi anni ad oggi brevemente? Guardi ieri proprio mi trovavo a Napoli dove come vecchio elefante mi esponevano all'udibrio dei giovani e ho fatto una lezione di come era la radiologia interventistica che è una cosa che è cominciata più di 50 anni fa. Penso che lo possano capire anche le persone che non conoscono nello specifico l'argomento. Voi immaginate oggi di entrare in una radiologia dove non ci sia l'informatica, l'ecografia, la TAC, la risonanza magnetica e nient'altro. Quindi era una cosa che facevamo senza sapere che fosse una nuova disciplina con soprattutto la fantasia e i pochi mezzi a disposizione. Oggi è una realtà talmente evidente e devastante. Basta solo pensare a quella che è la prognosi delle malattie cardiovascolari che con un semplice palloncino dilatato dove serve cambiano la vita di milioni di persone. Questa è la radiologia interventistica. Un accesso mini-invasivo per problematiche anche gravissime con buona probabilità di risoluzione assoluta. In tutti i campi della medicina, dalle più semplici patologie fino all'oncologia più avanzata. Questo premio a chi lo dedica, dottore? Lo dedico alla disciplina, diciamo, perché la mia carriera si è basata sull'evoluzione della disciplina e sulla diffusione a tutti. Quindi spero che il mio insegnamento possa portare avanti questo tipo di cosa perché è un bene per la salute di tutti.